e salve salve a tutti bentornati sul canale dingo show e allora volevo fare questa precisazione perché discutendo parlando un po' con dei miei amici che molto probabilmente non sono dei grandi appassionati di youtube perché mi hanno detto eh ma l'iscrizione l'iscrizione al canale quanto costa no 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 calma calma siccome avevo proposto va a seguirmi sul canale iscriviti parlo di collezionismo parlo di musica parlo un po di varie tematiche ma quanto costa l'iscrizione ma l'iscrizione è gratuita cioè su youtube ormai lo sappiamo tutti che l'iscrizione è una forma così che io magari avrei messo segui come si trova già anche su altri canali su altri su altri social segui e sarebbe più indicata come parola ecco quindi iscrizione l'iscrizione è una parola così fittizia perché lascia il tempo che trova non fai altro che cliccare il mio canale la parola iscriviti e segui i miei video la campanellina praticamente lascia una piccola spunta poi sulle varie novità se viene inserito un nuovo video ti accorgi che c'è la novità quindi niente di compromettente niente di costoso è tutto gratis è tutto gratuito quindi iscriversi non è niente è come accendere e spegnere la luce perché mi iscrivo e mi disiscrivo in contemporanea cioè basta cliccare uno smette di seguire quindi non c'è nessun contratto firmato non c'è nessun impegno ma è una cosa molto così facile semplice quindi mi raccomando iscrivetevi al mio canale che non si pagano costa niente cliccate la campanellina così magari quando c'è un video nuovo avete la notifica che c'è questo video nuovo e niente magari mettete un like che non è altro che il pollicione perché sta a significare che il video è gradito è piaciuto quindi mi raccomando seguitemi e iscrivetevi al dingo show